Che stagione deve essere questa per Lavezzano? Lei è ambizioso, ha già detto quello che è il suo sogno. Questa che stagione è di transizione o di crescita? Cercheremo di stare a ridosso dei play-off e se riusciremo a fare quel qualcosa di più, allora ve lo dirò per Natale o per la Befana. Spero di sorprendere in questa stagione, abbiamo i giovani giusti, e soprattutto gente esperta che può fare la differenza, ma solo se c'è un concetto, la fame. Ho fatto uno schema tattico l'altro giorno scherzando negli spogliatoi insieme al mister che ha vestito i vani del giocatore e gli avevo detto di un modulo caratterizzato da due numeri, l'11 e il 33. Gli ho detto che l'11 è il numero con il quale si scende in campo, il 33 è il numero con il quale si esce dal campo alla fine della partita, però lo schema tattico è rappresentato e unisce due numeri da un cuore, quindi attraverso il cuore si gioca in 11 ma si vince in 33. E questo spero che sia proprio il motto della stagione 2016-2017 dell'Avezzano Calcio. C'è stata qualche turbolenza legata a Bisegna, però è arrivata la conferma di Menna che è un pezzo importante del vostro puzzle e in attacco è arrivato Leto che è un colpo importante. Davide ha dimostrato di avere i numeri e soprattutto quando riuscirà ad entrare nei meccanismi giusti con Padovani e con Aquino, senza dimenticare che oggi Bittai non l'ha fatta vedere a nessuno la palla, il nostro Colored, staremo sicuramente tra quelle squadre che la domenica daranno lo spettacolo e faranno credere che ad Avezzano è ancora possibile tornare tra i professionisti. E spero che questo accada anche in coincidenza del vicinamento del pubblico, della città, dei marsicani, perché il calcio è fatto di numeri, senza il pubblico non ha neanche senso vincere. E quindi spero che la città di Avezzano, gli avezzanesi veri sentano questa mia dichiarazione e allo stadio vengano perché sicuramente faremo un campionato da protagonisti.